La Marinese Cattolica 1923 perde in casa contro la Bagnolese per 1-2, ancora una volta a maledetti minuti finali. Ancora una volta la formazione di Simone Lilli getta all'ortico un altro punto che avrebbe quantomeno mosso la classifica, anche in virtù di un primo tempo che vede i padroni di casa ottenere due occasioni da rete. Ma nella ripresa i rosso-bru si svegliano, vanno in vantaggio, si fanno recuperare e danno il colpo del KO all'ultimo secondo del match. Nel mezzo i giallorossi hanno cercato con tutti gli attaccanti di gettare i palloni in fondo a sacco, ma nulla da fare. Il Calbi rimane tabù e Avaro, infatti, di successi. Al quinto minuto vediamo l'unica occasione ospite dei primi 45 minuti, quando formato lanciato in profondità da Faie viene stoppato regolarmente da Faccioli e Nodari. Il reprecci mostra meglio la limpida occasione capitata sul piede dell'attaccante in maglia numero 9. Dall'altra parte Manuzzi, dalla distanza, cerca di replicare la prudezza di Livorno. Cocconi sulla traiettoria rischia il quasi autogol. Bravo a Orelli a non farsi sorprendere. Dalla bandierina, il padone di casa e in maglia bianca si rendono pericolosi con il colpo di testa di Nodari che non inquadra lo specchio della porta. L'ultima occasione del primo tempo capita sul piede di Rizzitelli. Aurelli viene chiamata alla presa a terra. Nella ripresa la bagnolese prende coraggio e cambia in questo momento lo scenario. Leonardo, da calcio piazzato, chiama al miracolo Faccioli. Bravo a distendersi nel rifugiarsi in corner. Dall'altra parte Rizzitelli fa gridare a gol il pubblico di casa. L'incluso dei palli nega gloria personale all'attaccante. Al classico gol di Vorato scatta il contrattacco e gol ospite. Formato protegge ottimamente la sfera, spalla la porta per lui. Appoggio per la corrente Leonardo che inventa il tiro del mercoledì pomeriggio. Pallone all'incluso dei palli e traiettoria così precisa, così pulita, sulla quale Faccioli non può far davvero nulla. I repreci mostrano la prudezza del centrocampista in maglia numero 8. Endai prova a replicare direttamente a calcio piazzato, pallone che si accomoda sul fondo. Dal corner Merlonghi spizzica la sfera in direzione Nodari che chiama Aurelia alla deviazione in corner. I repreci mostrano il colpo di testa ravvicinato da parte del difensore centrale di casa. Dalla bandierina nasce un'azione confusa con Garavini che viene infine atterrato da Silipo. Questa volta Zoppi di Firenze non ha dubbi, penalti a favore dei locali. Dal dischetto Rizzitelli sigla il quarto centro di stagione rispondendo alle critiche ricevute nelle ultime settimane. Ma in verità l'attaccante cercava i gol che sa di liberazione andando ad abbracciare i fini il tecnico Simone Lilli. Qualche dubbio un minuto dopo quando Endai apre per Garavini, centrocampista entrato in area di rigore e viene atterrato così. Ma l'ossia offensiva prosegue e Merlonghi tenta la solo personale. Rizzitelli e Goa arrivano in ritardo, allora l'attaccante cerca in questo caso l'affondo, pallone fuori di poco. La marignanese si sbilancia, entra anche Docenti in campo, si divore i go del soppasso quando Leonardo seve formato che viene stoppato davvero da un intervento salvatutto ad opera di Garavini. Altro rischio è quando Leonardo porta a spasso, palla ad avversario, scavetto su faccioli, relativo salvataggio su una linea di porta a cura di Nodari. Si rivede la marignanese cattolica con Merlonghi, altro a solo e tiro dalla distanza con Aurelli che brocca in due tempi la sfera. A 94esimo, all'ultimo minuto del match, è formato apre per Leonardo. Il numero 8, i migliori in campo dei suoi, porta a spasso, mezza difesa, fa quello che vuole, ha il tempo di inventare, crossare, mettendo in difficoltà Pirantozzi che scaglia il pallone involontariamente su Nodari. La sfera carambola successivamente sul piede caldo di Silipo. È l'apoteosi in questo caso per la bagnolese e il crollo per la marignanese cattolica. Una a due che sa di beffe incredibile, che preme maggior cinismo ad opera degli ospiti che tornano a casa con tre punti importantissimi mentre la marignanese cattolica cade in casa domenica al Calbi. Arriva lì for lì.